In questa video guida, vedremo alcuni consigli, per scegliere le migliori cappe da cucina filtranti. Per mantenere un ambiente salubre nell'angolo cottura occorre una cappa da cucina filtrante, ancor meglio se dispone anche della funzione aspirante. Lo scopo di questo strumento è quello di eliminare fumi, grassi e cattivi odori. Grazie a un sistema di ventilazione, le cappe da cucina filtranti catturano tutte queste isolazioni, le trattengono al loro interno e riemettono l'aria purificata nello stesso ambiente. Di enorme filtri possono essere metallici o dotati di cartucce a carboni attivi. È obbligatorio installare cappe da cucina sui fornelli, specialmente nel caso di quelli a gas, sia in ambienti domestici che lavorativi. È importante assicurarsi che siano larghe quanto tutto il piano cottura, indipendentemente dal montaggio a scomparsa o a vista. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!